Ha tentato di baciarle e di toccarla. Violenza sessuale è l'accusa ipotizzata nei confronti di un 63enne originario di Guardia San Framundi arrestato a Castelvenere dai carabinieri della stazione di Telese Terme. Secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo aver raggiunto un emporio di proprietà del compagno della presunta vittima, l'indagato avrebbe rivolto le sue attenzioni alla donna, che in quel momento era da sola nel locale. Le avrebbe dapprima rivolto alcuni apprezzamenti, poi, trattenendola con la forza, avrebbe cercato più volte di baciarla e palpeggiarla. La malcapitata è riuscita a scappare e a denunciare l'accaduto ai carabinieri, che hanno poco dopo identificato e fermato il 63enne, che successivamente è stato sottoposto agli arresti domiciliari.